buongiorno a tutti bentornati sul mio canale in questo nuovo video vedremo domande di informatica per le prove preselettive dei concorsi pubblici in particolar modo per concorso IMSS 1858 posti per garantire che un documento scritto con il programma di calcolo Microsoft Excel 2010 non possa essere modificato da persone non autorizzate è possibile proteggerlo con la password utilizzando la risposta è protezione per garantire che un documento scritto con il programma Microsoft Office Excel non possa essere modificato da persone non autorizzate è possibile proteggerlo con password la risposta è sì attraverso la protezione per garantire la connessione a un computer collegato a una rete TPC IP al momento della connessione dovrà essere assegnato la risposta ad un indirizzo IP univoca per garantire la connessione a un computer collegato a una rete TPC IP dovrà esserli assegnato la risposta ad un indirizzo IP univoco per generare automaticamente il sommario di un documento con il programma di videoscrittura Microsoft Word o di Office è indispensabile avere la risposta impostato e utilizzato gli stili paragrafo per generare automaticamente un indice su un documento in Word è necessario che la risposta sia utilizzati gli stili per la formattazione dei titoli per gestire le formule matematiche in un computer è preferibile utilizzare la risposta è uno spreadsheet per gestire la memoria di massa di un computer serve la risposta è il file system per la GUI si intende la risposta è l'interfaccia grafica di un sistema operativo per l'hardware si intende la risposta è la componente fisica del calcolatore per home banking si intende la risposta è l'accesso via internet ai servizi della banca per impostare il salvataggio automatico di un documento nel programma di videoscrittura Microsoft Word è necessario usare la risposta del comando opzioni dal menu strumenti per impostare un certo numero di righe da ripetere in alto in un documento creato con il software Microsoft Excel si deve agire nelle impostazioni di esposta e imposta pagina per inserire automaticamente il numero totale di pagine di una sezione di un documento del programma di videoscrittura Microsoft Word si può ricorrere la risposta è all'inserimento di campi per inserire il grafico totale di un foglio con Microsoft Excel è necessario selezionare la risposta ai valori numerici per inserire una nota più di pagina riferimento ad una parte del testo in un documento prodotto con Microsoft Word 2016 quale menu si deve selezionare la risposta è inserisci per inserire una password per proteggere il contenuto di un foglio di lavoro di Microsoft Excel quale menu si deve selezionare la risposta è revisione per inserire una tabella in un foglio di lavoro di Microsoft Excel per inserire una tabella in un foglio di lavoro di Microsoft Excel quale menu si deve selezionare la risposta è inserisci per inserire un'immagine come sfondo nel linguaggio HTML è sufficiente utilizzare la sequenza dei sintassi la risposta è body-background-image-sfondo.ipg per installare una stampante la via più breve è effettuare la sequenza cerca dispositivi stampanti aggiungi stampante per inviare un documento di Microsoft Office Word tramite posta elettronica cosa è necessario fare? la risposta è inserire il documento come allegato dell'email per inviare un fax il computer deve essere collegato la risposta alla rete telefonica per chillare velocemente un processo in Windows occorre aprire la risposta è gestione delle attività per la connessione al World Wide Web da un PC è necessario disporre di un software denominato la risposta ai browser per la scrittura dei dati il CDOM utilizza la risposta è una tecnologia laser per lanciare la defragmentazione di un disco il percorso più breve è risposta dopo aver premuto Start ovvero il logo Windows nella casella di ricerca digitale utilità di defragmentazione dischi e quindi cliccare sul programma di defragmentazione dischi per mettere in comunicazione due PC direttamente tra loro con un cavo a internet occorre la risposta è il cavo tipo cross per modificare i margini di una pagina in MS Word quale procedura si deve seguire la risposta è da layout di pagina bisogna agire sulla funzione imposta pagina e quindi cliccare il menu margini per modificare la disposizione verticale del testo in una cella di una tabella su Word quale funzione occorre attivare la risposta è proprietà tabella e modificare le opzioni del tab cella per modificare l'ordine aspetta per modificare l'ordine di una pagina di un documento creato con il software Microsoft Excel è possibile scegliere l'esposta imposta pagina per navigare sul web con un personal computer si utilizza un particolare programma adetto a esposta e browser per organizzare e gestire più facilmente i file su un computer è buona norma la risposta è disporli in apposite cartelle per ottimizzare le prestazioni di un computer è buona norma eseguire periodicamente la deflimentazione del disco per poter copiare un testo prima quale operazione bisogna eseguire la risposta è selezionare il testo per poter installare la stampante su un computer equipaggiato con un sistema operativo Microsoft Windows è necessario la risposta è collegare i cavi di alimentazione e dati e seguire la procedura di configurazione per poter usare la funzione stampa unione per poter usare la funzione stampa unione in Microsoft Word Office è necessario creare un file che contenga l'esposta e un'origine ai dati per preparare un disco alla registrazione dei dati si usa il programma di formattazione per quale delle seguenti operazioni il software Microsoft Office Excel non è specificato letteralmente indicato la risposta è predisporre una serie di slide da proiettare con una lavagna luminosa per quale delle seguenti operazioni non è adatto Microsoft Word la risposta è calcolare la montare dell'imposta per la rinuncia dei redditi per quale motivo un PC Windows appena installato non vede in rete gli altri PC la risposta è per l'impostazione prevedita di sicurezza per quale motivo un'opzione di sicurezza prevede che l'utente non lavori mai con privilegi amministrativi la risposta è se fosse l'amministratore l'utente potrebbe danneggiare parte del sistema operativo involontariamente per quale operazione il software Microsoft Word non è specificatamente indicato la risposta è fuoto di tocco per quale versione di Windows se sia installata su computer bisogna aprire la finestra proprietà la risposta è di sistema per quale codice è disponibile la versione e starter del sistema operativo Windows 7 la risposta è solo 32 bit per realizzare un lavoro contenente tabelle grafici quale software si deve utilizzare la risposta è Microsoft Excel per realizzare un'immagine digitale o numerica è indispensabile utilizzare la risposta è il computer per rimuovere in maniera corretta un programma installato in ambiente Windows è necessario la risposta entrare nel pannello di controllo e utilizzare l'apposita funzione per salvare in memoria RAM il contenuto di una cella di un foglio Microsoft Excel quale combinazione di tassi si deve premere le risposte c3l più c per scrivere il nome dell'autore su ogni pagina il documento creato con Microsoft Excel è possibile usare l'opzione la risposta in destrazione a piedi pagina per scrivere il simbolo dollaro c'è bisogno di premere maiusc per scrivere il simbolo del copyright direttamente dalla tastiera per la quale combinazione di tasti si deve premere le risposte alto c3l più c per scrivere la u accendo c'è bisogno di non premere alcun tasto aggiuntivo per scrivere un programma in ambito informatico si utilizzano dei tanti linguaggi di programmazione esistenti indipendentemente dal linguaggio utilizzato come si definisce il programma esposto e il programma sorgente per scrivere un programma in HTML si può utilizzare le risposte note pad per scrivere una lettera con word processor quale linguaggio di programmazione si riconosce e la risposta è nessuno il video di oggi termina qua per vedere altri miei video iscriviti al canale e attiva la campagna e a a a a a a a a Grazie per la visione